Bene, oggi tutto questo sarà finito! È una situazione da cui non riesci a venire fuori! Perché voi due non vi uniti ai vostri amici? Potreste dare una di quelle vostre speciali festicciole da gatti! Lascia un bacio ai miei amici! Cosa? Hai appena parlato? Miau? Miau! Wow! Mi sento molto, molto strano! Bene, è stato fin troppo facile per me! Forse dovrei prepararmi leggendo un libro! Ciao! 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 Sous-titrage ST' 501